. Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema, a cura di Film is Now! History Channel produrrà una serie tv intitolata The Kennedys, dedicata ai membri della famiglia presidenziale, ovvero John, la moglie Jackie, il fratello Robert e il padre Joe. Così, a distanza di qualche mese dall'annuncio di una pellicola su Jackie Kennedy Onassis, che verrà interpretata da Rachel Weisz, anche la televisione decide di raccontare il mito di questa famiglia. La serie sarà diretta da John Kassar e nelle vesti della bella Jackie ci sarà Katie Holmes. Dopo A Serious Man, uscito l'anno scorso, i fratelli Coen sono attualmente impegnati nella stesura del remake di Gambit, pellicola roccambolesca realizzata da Ronald Lame nel 1966. La regia verrà fidata a Doug Lehman, specializzato nel genere action-comedy, avendo firmato Mr. & Mrs. Smith e The Burn Identity. Il regista di Star Trek, J.J. Abrams, realizzerà un film interamente dedicato a Steven Spielberg, avvalendosi anche della sua autorevole collaborazione. La pellicola sarà un contributo alla carriera storica di Spielberg e in particolare alle produzioni che hanno segnato la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Per intenderci, pellicole dal calibro di incontri ravvicinati del terzo tipo, Poltergeist ed E.T. E per oggi è tutto, vediamo insieme il trailer! I'm not marrying you if you have to live with a kid like this. I'm only messing, you know I will. Who else won't tell you're a lazy? Shut up! Don't you! You can't just stop! And I'm gonna smash your own face in! Don't put your hand on me! I'm not going back. Okay. We can look out for each other. Whatcha doing kids? Bit late to be out. We're after on the way. You're only a fella now. I know. Wagon. What? Thanks for saving me. You saved me first. And I'll save you again. That was the best thing I ever seen. That was the best thing I ever seen. And now it won't shine. And now it won't shine. Fall in your room. And now it won't shine. Fall in your room. Fall in your room. Apply in your room. The rain is amazing and is amazing. I will see you soon as I can pass on my room. I am dying. Never in your room. I'm not dying. I am 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 dying. Grazie a tutti.